Partenza a razzo della capolista lavagnese nel big match contro il Real Forte Querceta perché l'undici di Tepiana al quarto d'ora è già sul doppio vantaggio, apre le danze la spizzata di Bomber Croci su calcio d'angolo da destra, a completare un inizio di gala straordinario, la perla di Curarino dalla distanza. Croci e Curarino sono il fattore C della lavagnese a segno insieme per la quarta volta in stagione. Nella ripresa pizza per i toscani, riapre l'incontro al ventesimo minuto, gol identico a quello di Taddeucci del Montecatini a finale, il finale di gara di quelli pazzi perché al settantesimo ancora da fuori di Pietro per la lavagnese riporta a distanza di sicurezza i padroni di casa ma la riaprono ulteriormente gli uomini di Pagliuca con la mischia risolta dal tiro al volo a centrale di Falchini. La zona Cesarini in serie D però si chiama zona Ferretti e Mister Penalty all'ottantacinquesimo trova un pareccio che sa di beffa per una lavagnese che rimane in testa della classifica ma è raggiunta da Massese e Gavorrano.